Ecco i miei tre film preferiti che narrano la storia di Gesù. Al terzo posto metto La passione di Cristo di Mel Gibson. Al secondo posto metto Il re del re di Nicholas Ray. E al primo posto... Al primo posto... Gesù di Nazareth, del nostro Franco Zeffirelli. Fatelo vedere alle nuove generazioni. Io lo vidi per la prima volta quando ero bambino. Lo proiettarono nella mia scuola, nella sala cinema della mia scuola. Un film che mi colpì sin da subito per l'interpretazione degli attori che hanno dato ai loro personaggi. Robert Powell, l'attore che interpreta Gesù. Avrebbe meritato l'Oscar. È un film dalle forti emozioni, con una colonna sonora a dir poco toccante. Vi consiglio di vederlo al più presto.